La Villa dei Gattopardo. Ad decente a palazzo sorgia ancora oggi il giardino con gli alberi secolari, realizzato sul finire del XVII secolo, mirabilmente descritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa in I ricordi d'infanzia. Il giardino, come tanti altri in Sicilia, era disegnato su un piano più basso della casa, credo affinché potesse soffrire di una sorgente che li sgorgava. Nel furore dell'estate, quando la sorgente scemava il suo gettito era un paradiso di profumi, riarsi di origano e nepitella, come lo sono tanti giardini in Sicilia che sembrano fatti più per il godimento del naso che dell'occhio.